salve a tutti ragazzi salve a tutti mancano due giornate alla fine di questa serie a e noi siamo qui per altri pronostici per altri pronostici andiamo subito a iniziare senza perdere tempo allora si inizierà con Benevento Genua allora Benevento Genua vabbè il Benevento ormai è bello che ha retrocesso il Genua non ha nulla da dire è undicesimo con 41 punti e quindi nessuna diciamo secondo me delle due ha qualcosa intanto metto bene la telecamera la webcam nessuna delle due niente da dire però il Benevento non so lo vedo ultimamente molto più pericoloso eccetera quindi io direi ho uno massimo 1x non lo so voglio di rischiare con un 1 del Benevento dai 1 del Benevento poi ci sarà stasera Inter Sassuolo di cui io naturalmente non farò pronostici l'Inter è in corsa per la Champions League Sassuolo è ormai salvo io dico solo a molti interisti non andate a pensare subito la partita con Lazio perché prima della Lazio c'è la partita con Sassuolo che se sbagliamo quella ciao Champions quindi prima Sassuolo prima Sassuolo poi andiamo avanti c'è Verona Udinese Verona Udinese allora il Verona è ormai in Serie B l'Udinese aveva fatto via una serie di non mi ricordo quante 10 11 partite che però sembrava aver interrotto questo negativo questo flusso negativo con la partita col Benevento peccato che poi se trovate davanti la nostra Inter non ha funzionato praticamente niente e ne ha prese un bel po' ne ha prese un bel po' però cioè io simpatizzo anche per l'Udinese perché comunque abito praticamente vicino a Udine e poi ho lavorato per gli spogliatori nuovi gli ho aiutato a costruire gli spogliatori nuovi quindi simpatizzo comunque per l'Udinese peccato peccato per quel cazzo di cambio allenatore per chi c'è adesso in panchina perché veramente mi sta veramente sui coglioni e non serve che dica il motivo però secondo me l'Udinese essendo una veterana della Serie A si salverà e credo che questa partita la vincerà quindi io metterei un bel 2 per l'Udinese Torino Spal Torino quest'anno deludente fuori da tutte le coppe non lotta neanche per l'Europa League non ha niente da dire la Spal invece lotta per la salvezza e ha più 2 dal Cagliari perché è 14esima con 35 punti però sinceramente io per questa partita vedrei bene un bel pareggio un bel pareggio poi c'è Fiorentina Cagliari Fiorentina Cagliari la Fiorentina in corsa per l'Europa League insegue il Milan e l'Atalanta il Milan ne ha più 3 punti sulla Fiorentina e l'Atalanta ha più 2 punti sulla Fiorentina il Cagliari rischia veramente tantissimo la retrocessione perché ha un gioco scarso e fa anche tantissimi errori vedete contro la Roma due partite poi difficilissima la Fiorentina e l'Atalanta ragazzi cioè non è semplice per me questo Cagliari retrocederà sia perché ha due partite difficili sia per il gioco che esprime la grinta cioè guardate la crotone alla spalla come tirano fuori i coglioni Cagliari non lo vedo così aggressivo così voglioso di salvarsi come le altre la Fiorentina comunque poi se vincerà questa partita se la vedrà col Milan nell'ultima partita del campionato per me vincerà comunque la Fiorentina e di Cagliari secondo me andrà a retrocedere poi c'è Bologna Chievo Bologna Chievo il Bologna non ha niente da dire 39 punti anche se se non sbaglio non è matematicamente salvo perché poi gli sconti diretti non so come sono messi però matematicamente non credo sia salvo però dubito che Cagliari vinca due partite contro Fiorentina l'Atalanta il Chievo a quindicesimo con 34 punti lotta per retrocessione a più uno dal Cagliari rischia molto però il Bologna è un campo difficile io direi un bel pareggio o a massimo forse anche un x2 però più per il pareggio poi abbiamo una partita che ci interessa molto sperando che ci interessi molto perché se non vinciamo non credo ci interessi poi tantissimo noi dobbiamo vedere noi stessi prima e dopo la Lazio comunque Crotone e Lazio il Crotone è sedicesimo con 34 punti a più uno dal Cagliari rischia tantissimo si gioca la salvezza in 180 minuti la Lazio arriva senza Immobile senza Luis Alberto non sta giocando benissimo ultimamente un momento non esaltante il Crotone comunque è un campo difficile perché ragazzi il Crotone comunque è una squadra ostica perché poi tra l'altro è in casa però la Lazio a sua volta non molla mai io prevedo un pareggio un pareggio però ragazzi questa Lazio cioè li possono mancare tutti ma non molla mai questo ragazzo vince sempre questa Lazio vince sempre vince sempre questa Lazio quindi io vedo un pareggio ma se vince la Lazio no cioè troppo forte la Lazio ecco e andiamo avanti andiamo avanti abbiamo Atalanta-Milan ha un bello sconto diretto per l'Europa League l'Atalanta a forma strepitosa meritava di vincere anche contro la Lazio il Milan invece è in calo poi deriva con le quattro pere dalla Juventus quindi fisicamente psicologicamente l'Atalanta è superiore al Milan quindi io direi un 1 o un 1x ma noi tutti noi tutti come ben sappiamo il Milan è una grande squadra 7 Champions League quindi non mi stupirei non mi stupirei se dovesse vincere vincere contro l'Atalanta non mi stupirei se dovesse vincere perché questa è una grandissima squadra con 1000 Champions League grandissima squadra che andrà a vincere ragazzi andrà a vincere sicuramente poi abbiamo le due partite in contemporanea che non servono a un cazzo dovevano fare le prime contemporanee c'è Sampdoria e Napoli, Samp ormai fuori dall'Europa League, Napoli ormai fuori dello scudetto perché anche se la Juve dovesse perdere tutte e due e Napoli vincere andrebbero a pari punti sconti diretti uguali si andrebbe a vedere la differenza reti che è enormemente a vantaggio della Juve irrecuperabile quindi secondo me nessuno dei due ha niente da dire giocheranno così secondo me io prevedo un bel pareggio un bel pareggio, poi abbiamo la Roma-Juve e guardate caso la Roma manca un punto per andare in Champions League alla Juve manca un punto sempre matematicamente parlando per vincere lo scudetto un punto serve la Roma, un punto serve la Juve due più due non fa certo cinque quindi un bel pareggio e un bel biscottino io ragazzi prevedo un bel biscottino in questa partita quindi io prevedo un bel biscottino vedrete che sarà sicuramente così niente finiscono qui le partite noi ci vediamo un prossimo video speriamo bene stasera e ciao a tutti sempre Forza Inter amora sempre ciao a tutti ragazzi grazie a tutti